Assessore Monte, com'è andata la serata di ieri? Credo che alla fine sia stata una serata ben riuscita, gli organizzatori sono rimasti soddisfatti, se Roccoforte che era presente è rimasto anche contento di tutto l'ambara d'anne che era stato allestito e quindi credo ci sia oggi grande soddisfazione per un evento che abbiamo rincorso per tanto tempo e che finalmente ieri sera poi si è saurito come giusto che fosse. Si esaureranno anche le polemiche che ci sono state? Ma io devo ammettere che a parte le primissime polemiche che ovviamente fanno parte del gioco ci potevano stare, alcune ovviamente estremamente pesanti, io ieri sera ho visto una città di Sciacca che mi ha commosso, non lo nascondo perché uscendo poi a tardanotte dalla zona ho visto molta gente che era accalcata lì, che ha ringraziato, che ha detto che era una cosa che andava fatta, ho visto una città matura che ha accettato l'invito e che ovviamente si è sottoposta perché bisogna dirlo, siamo stati un po' in base in questi giorni, sia Piazza Scandaleato, Piazza Rossi, i parcheggi, le strade, però alla fine ci siamo comportati da grandi ospitali quali siamo, siamo magari persone che all'inizio pensiamo di essere colonizzate, ci terrorizziamo però poi una volta che prendiamo confidenza diamo anche l'anima e Sciacca si è comportata così. Cosa ci rimane di questo Google Camp sul piano mentale ma anche sul piano pratico, proprio concreto? Sul piano mentale credo sia rimasta una grande opportunità per far veicolare il nostro nome, ieri sera ovviamente la presenza dei carri allegorici che comunque era riconducibile ed è riconducibile alla nostra città, addirittura gli ospiti hanno creato un sondaggio per votare il carro più bello tra i due presenti, quindi c'è stata una sorta di gioco interno anche per far decidere loro qual era più bello. A parte di questo c'è un grandissimo giro del nome della città di Sciacca, ieri sera tantissimi facevano i complimenti, tanti ospiti hanno materialmente esaltato la nostra città, sia da un punto di vista legato al mare, al panorama, alla stessa piazza. Ad esempio qualcuno di loro era già stato a Sciacca ma non aveva mai visitato il centro storico e sono rimasti particolarmente colpiti, questo vuol dire fare promozione a livello internazionale. Sul piano prettamente pratico e meno filosofico ci sono dei bagni pubblici che sono, devo dirvi, un bagno a 5 stelle. Ieri sera, in terza serata, sono sceso col sindaco a fare un sopralluogo perché non avevo utilizzato i bagni durante la serata. Lo chiama sopralluogo lei? Sì, lo chiama sopralluogo. No, è stato un sopralluogo, non ho fatto altro. Sono sceso giù a controllare e devo dire che sono rimasto veramente scioccato però al contempo ho detto che bisogna trovare subito una formula per gestirli perché dei bagni finalmente in uno stato dignitoso, pensare che possano essere vandalizzati questo ovviamente fa un po' atterrire. Poi ribadisco il pagamento del suolo pubblico, ribadisco la sistemazione dell'area sotto piazza Angelo Scandaliato con questa scervatura, con questa pulizia, questo spettacolo pirotecnico che seppur breve comunque è stato per tutti e non significava un regalo alla città o per Google è stato un omaggio anche che l'organizzazione ha voluto fare a tutta la città che ovviamente non poteva essere presente all'interno dell'area. Per il resto, se oggi si cerca Google Camp, una delle primissime parole che si trovano appunto su Google è sciacca, quindi credo questo è il grande successo e di conseguenza il mio è un grande ringraziamento a tutti coloro poi che hanno reso possibile questo evento. Grazie a tutti.